Il Papa ha firmato oggi la sua terza enciclica, Fratelli Tutti. Lo ha fatto in un luogo che è più di un simbolo, perché già da solo dice, dice tutto del pontificato di Orche Mario Bergoglio e dei contenuti di questo documento, la cripta della Basilica Inferiore di Assisi che custodisce la tomba di San Francesco. Alla vigilia della festa del poverello di Assisi, Francesco ha celebrato la messa in questo piccolo luogo, visitato ogni anno da migliaia di persone. Al termine ha firmato una enciclica dedicata alla fraternità e all'amicizia sociale, fronte aperto di una umanità ferita anche dalla pandemia. I contenuti di questo testo saranno presentati domani, il titolo prende spunto dalle parole dello stesso San Francesco. Al termine della semplice cerimonia di firma, il Papa ha richiamato sull'altare tre componenti della prima sezione della Segreteria di Stato che hanno lavorato alla stesura delle varie traduzioni. Lo ha fatto come gesto di ringraziamento per sua stessa ammissione, con un indirizzo di saluto al termine della celebrazione della messa. L'enciclica è stata portata sull'altare da Monsignor Paolo Braida, che è all'incaricato delle traduzioni e dei discorsi del Papa nella prima sezione. Papa Francesco non ha tenuto l'omelia. Per suo stesso desiderio e in considerazione della situazione sanitaria, la celebrazione si è svolta senza la partecipazione dei fedeli. Ad accompagnare e sottolineare dunque il gesto della firma sono stati la preghiera, il silenzio e la semplicità della liturgia della festa di San Francesco che la Chiesa celebra il 4 ottobre.